Ciao, sto realizzando dei pannelli in rovere massello. Per sapere come lo realizzerò, ma soprattutto per sapere come si utilizza questo tipo di fresa finger joint, segui con attenzione il video. Questo video è in collaborazione con PaginUtensili. Visita il sito paginoutensili.com. Dunque, per la creazione di pannelli in massello bisogna partire da tavole perfettamente piallate, quindi devono essere squadrate, piallate, a misura finita. La lunghezza non importa in questo caso, perché il tipo di unione mi permette di lasciarlo di qualche centimetro più lunga. Poi, come ti ho spiegato in un altro video, bisogna tenere presente del verso in cui sono disposti gli anelli di accrescimento nella tavola. Andando a utilizzare la fresa che sto per mostrarti, ad ogni unione, quindi tra costa con costa, verrà fatta una fresata. Questa fresata asporta materiale, di conseguenza la tavola subirà un restringimento. Questa asportazione bisogna tenerla conto in precedenza, quando si va a dare la misura finita alla tavola che poi, in seguito, insieme alle altre, comporrà il pannello. Per evitare di trovarsi un manufatto più piccolo di quello che si necessita. Quindi, ad esempio, le due tavole esterne avranno una sola fresata, ma le due interne verranno fresate su entrambe le coste. E qui ci sarà una maggiore asportazione, di conseguenza perdita di millimetri, centimetri. Allora, di che fresa sto parlando? Sto parlando esattamente di questo tipo di fresa qua. E' una fresa della CMT. E' chiamata dagli anglosassoni finger joint, finger joint router bit. Cosa vuol dire finger joint? Ecco, questo è il finger joint. Perché appunto la lavorazione che lascia questa fresa ricorda le dita intrecciate, in questo modo. Quindi finger joint. In italiano è più semplice tradurlo unione a denti. Allora, che cosa ha di particolare questa fresa qui? Che, essendo componibile, è anche regolabile. Ovvero, il disco che vedi qui adesso ha il centro, il più spesso, il più grosso. In base allo spessore delle tavole che si va a lavorare, bisogna spostarlo. Quindi si svitta, si smonta. Toglono i dischi sottili. Mantenendo sempre lo spaziatore fra un disco e l'altro. Lo spaziatore va sempre montato fra un dischetto e l'altro. Perché i taglienti non si devono assolutamente neanche sfiorare, non solo toccare. In base all'altezza del pezzo di legno che stiamo andando a lavorare, va sistemato a diverse altezze. Questa fresa offre l'opportunità di lavorare da tavole che comporranno pannelli da uno spessore minimo di 12,7 mm fino a uno spessore massimo del pannello finito di 36 mm. Quindi ha un buon campo d'azione. Allora, per iniziare le operazioni di lavorazione sulle tavole, è bene posizionare la fresa. Il codolo è meglio farlo entrare completamente all'interno della pinza. E poi me lo stringo con la chiave. Non c'è bisogno di stringerlo moltissimo, perché comunque il dado che tiene la pinza avvita nel senso contrario rispetto alla rotazione dell'albero. Faccio scendere la fresa, non completamente perché? Perché comunque il cuscinetto, se c'è, un motivo ci sarà. Il motivo è che mi serve. Cosa serve il cuscinetto? In questo caso, oltre da fare come guida, fa anche da riferimento, quindi una sorta di stop di profondità, perché i dischi non freseranno denti più profondi del diametro esterno del cuscinetto. Se avessi dovuto lavorare uno spessore maggiore di questa tavola, questa tavola sono 19,5 mm, in conseguenza mi sono trovato bene posizionando due dischi sottili sotto e il disco grosso sopra e mi dà esattamente questa fresata, questa qui, e lo trovo giusta rispetto allo spessore del pezzo. Ho stretto di nuovo la fresa, l'ho abbassata, ovviamente la porzione di cuscinetto la devo lasciare fuori perché mi servirà anche per allineare la guida fino al cuscinetto stesso. Ora, per ottenere questo tipo di incastro non devo fare altro che scegliere una delle due tavole con cui partirò per primo, appoggiarla al piano e passarla sulla fresa, fargli fare la fresata. L'altra, che dovrà comporre il pannello, quindi mi interessa questa faccia superiore in questo caso, non la passerò tenendo lo stesso verso, quindi girando così e passando, ma siccome compone così, per ottenere questo stesso tipo di fresata devo ribaltare, girare e fresare, in questo modo. Devo fare solo attenzione a non confondermi. In questo momento parto con la tavola più esterna del pannello, una sola cosa andrà fresata. Sto facendo la lavorazione in due tempi per cercare il pannello, per cercare di farti capire meglio come funziona questo tipo di fresa. Ora che ho fresato solo una costa di ciascuna tavola interessata dall'incastro, per ricavarmi gli altri incastri devo ribaltare la tavola, devo portare l'altra faccia della tavola sul piano del tavolo industrie per poter essere fresata. Questo è il modo che mi garantisce poi di avere l'incastro rispettando l'ordine che avevo dato io alle tavole in base soprattutto agli anelli di accrescimento, alla disposizione degli anelli di accrescimento. E farò questo per un pannello e per l'altro. Per andare più veloci, per le tavole che sono interessate dalla fresatura su tutte e due le coste, altro non bisogna fare che è fresare una costa, ribaltare e portare l'altra costa pronta a essere fresata. Si va molto più veloci. Io ho voluto fare le cose in due tempi per darmi modo di spiegarti appunto questa cosa. Quindi ora mi ribalto le tavole e me le porto al tavolo industrie per la successiva lavorazione. Così ribaltate sia queste che queste più in qua dell'altro pannello. Della regolazione dell'altezza della fresa e della disposizione dei dischietti non bisogna assolutamente toccare nulla. Basta semplicemente ribaltare la tavola come ti ho detto poco fa. Questo è l'incastro appena ottenuto. Come puoi vedere calza alla perfezione. Andando a ricomporre il pannello, quindi non devo fare altro che girare di nuovo le tavole verso giusto. Mi trovo le linee del triangolo che avevo disegnato prima. E semplicemente vado ad accoppiare l'unione a dente che ho appena ricavato con la fresa al tavolo industrie. Detta anche finger joint. Va bene per questo è tutto. Io ti do appuntamento al prossimo video se sei curioso di vedere come si incolla e come si morsetta correttamente un pannello composto da tavole di massello. In questo caso rovere massello. Voglio anche ricordarti che se mi è stato possibile realizzare questo video è grazie a PaginUtensili che mi ha messo a disposizione il tavolo industrie. La fresatrice CMT7E è la fresa appena utilizzata di tipo unione a dente. Quindi come ti ho detto prima la finger joint. Perfetto con questo è tutto. Io ti saluto. Stammi bene. Ciao.